Trucchetto per migliorare le nostre performance nel trading. Dico trucchetto perché è un piccolo scamotage che io ho trovato veramente molto molto utile e che penso che a tutti voi possa esserlo altrettanto. Di che cosa si tratta? Allora, noi spesso, molte persone che fanno trading, non hanno la possibilità di fare trading a tempo pieno, ma fanno trading magari durante o dopo il lavoro, alternandolo comunque ad altre attività. Allora, il mio suggerimento è questo. Siccome la nostra mente fa focus su determinati argomenti, ha la necessità di avere un momento di riposo tra un argomento e l'altro. Quindi il mio consiglio pratico per chi fa più attività all'interno della giornata e poi vuole cominciare a fare trading è quello di prendersi 5-10 minuti di totale relax, ascoltando della musica, meditando, facendosi una bella doccia, trovando un momento di stacco. L'ideale sarebbe un riposino. Un riposino di 10-15 minuti, se uno riesce, si fa uno stacco completo, si prende un momento di relax completo e il cervello è come se resettasse e ricominciasse da zero. Questo è molto molto utile, perché se no rischiamo di andare a fare trading pensando a quello che abbiamo fatto il lavoro, pensando a quello che ci ha detto nostra moglie, pensando a quello che hanno detto i bambini, dipende un po' da dove arriviamo. Quindi il mio consiglio per il trading, ma in generale per tutto, è che se vogliamo migliorare le performance di un'attività che noi andiamo a fare, siccome il nostro cervello fa fatica, quello che stanca il nostro cervello è switchare da un argomento ad un altro, soprattutto se gli argomenti sono assolutamente decorrelati. Quindi il mio consiglio è quello di, voglio fare trading, ma magari arrivo da una giornata di lavoro, bene, arrivo a casa, mi faccio una bella doccia, mi faccio 10-15 minuti di dormita, mi ascolto della musica, stacco completamente e quando mi siedo sono concentrato e parto da zero. Tramite questo sistema avrete dei grandissimi vantaggi, perché avete una mente più rilassata, una mente più pronta e soprattutto la mente più rilassata e pronta vi permette di cogliere meglio le occasioni e di gestire al meglio le posizioni che voi andrete a prendere. Perché vi ricordo che nel momento in cui voi andate a scegliere un prodotto piuttosto che un altro, lo fate secondo il vostro stato d'animo. Quindi se siete stanchi, se siete stressati, avete una condizione che non è ottimale. Quindi il nostro compito è quello di essere sempre in una condizione ottimale. Nel momento in cui noi andiamo a fare trading, siccome il trading dipende esclusivamente da noi, noi dobbiamo essere sempre al top. Quindi 10-15 minuti di tutta la relax, scegliete voi come rilassarvi, ma fatelo prima di ogni trade. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!